Ermar Meta è l'uomo del momento. Vincitore al Festival di Sanremo, disco d'oro con il suo vietato morire e grande protagonista da amici come giudice, il cantante ha il cuore impegnato. La fortunata è Silvia Notargiacomo, famosa e apprezzata speaker di RTL 102, 5. Classe 1983, coetanea di Ermar Meta, ha iniziato giovanissima con il mondo della musica, lavorando in radio e in tv già da 2002 come giornalista musicale per music tv. Arrivano poi i contratti in Rai, le collaborazioni con Telenorba fino ad oggi, punto di riferimento del palinsesto di RTL 102, 5. In una recente intervista, Ermar Meta ha protetto la storia con Silvia Notargiacomo dai riflettori parlando di un ruolo centrale nella sua vita che è rappresentato dall'amore. Così parlando con la redazione di chi? L'amore nella mia vita ha un ruolo centrale, amo e difendo l'amore. Quando noi facciamo qualcosa, ruota intorno all'amore. È un po' come il sole, quando non c'è non vuol dire che non esista, soltanto che non c'è in quel momento. Volete sapere come sta il mio cuore? È ben alimentato. Sui social network, Silvia è discreta ma non troppo. Numerosi scatti con suo cognato, il fratello di Ermal, e tantissimi che fanno tifo per lui. C'è anche uno scatto che mostra il disco d'oro con Ermal, felicissimo, sullo sfondo. Non c'è nulla di segreto, ma sempre meglio tenere lontano gli impiccioni. Chi se ne frega.